Cari Capi Delegazione, cari Ministri, sono davvero lieto e onorato di poter introdurre la discussione di questa colazione di lavoro. Sul primo punto, come migliorare la partecipazione delle piccole e medie imprese nel commercio internazionale, in particolare nel contesto delle nuove sfide e opportunità presentate dalla transizione digitale verde e sostenibile, vorrei ricordare che un tessuto imprenditoriale diffuso e vivace è essenziale per ogni economia sana e dinamica e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tra questi ultimi vorrei sottolineare l'uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, così come la riduzione della povertà e l'eliminazione delle disuguaglianze, aspetti fondamentali per un'economia sostenibile. Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che a causa delle loro dimensioni le piccole e medie imprese devono affrontare ostacoli maggiori per integrarsi nel commercio internazionale. Per aiutarle a superare questi ostacoli, dobbiamo lavorare per efficientare il contesto normativo, stimolare l'aggiornamento tecnologico, garantire un miglior accesso ai finanziamenti e agevolare iniziative per la formazione dei lavoratori. Se vogliamo che le nostre piccole e medie imprese abbiano successo, nel lungo periodo dobbiamo assicurarci oggi che esse possano operare in un contesto di regole nazionali e internazionali adeguato e che siano dotate degli strumenti per adattarsi alle transizioni digitali e verdi in corso. A questo scopo, la Presidenza italiana ha messo a disposizione dei membri del G20 un toolkit non vincolante di possibili misure che può aiutare i governi a formulare politica a sostegno dell'imprenditoria, in particolare per affrontare le nuove sfide e beneficiare delle opportunità presentate dalla transizione verde, sostenibile e digitale in corso. Vorrei anche sottolineare che per le piccole e medie imprese l'accesso alle informazioni in un formato facile da usare è fondamentale. Per questo motivo sottolineiamo l'importanza di sensibilizzare e promuovere l'uso di piattaforme che facilitano l'accesso alle informazioni. Passando al secondo punto, anche i servizi e gli investimenti sono due settori che sono stati duramente colpiti dalla pandemia e la loro ripresa è ancora faticosa. Un rimbalzo ordinato del commercio dei servizi sarà necessario per garantire una ripresa sostanziosa, uniforme e sostenibile. I problemi nelle forniture di servizi hanno infatti un ampio impatto sulla produzione e sugli scambi anche in considerazione del ruolo abilitante che i servizi svolgono nei confronti delle altre attività economiche. Tra le altre cose infatti, oltre ad assicurare il corretto funzionamento delle catene del valore e incrementare l'occupazione i servizi rendono possibili commerci fisici ed elettronici. Lavorare tutti insieme al contenimento dei costi dei servizi mi riferisco ad esempio ai settori della logistica e dello shipping promuoverebbe la produttività, stabilizzerebbe i commerci internazionali e contribuirebbe a stimolare la ripresa economica globale. Mi permetto di fare un appello a tutti noi in questo senso. La crisi Covid-19 ha ulteriormente accelerato il passaggio verso un'economia digitale e ha reso evidente la necessità per i governi di sostenere la digitalizzazione e il commercio elettronico come mezzi per sterilizzare la crisi e accelerare la ripresa. L'accresciuto ruolo dei servizi di ICT ha permesso alle persone di continuare a consumare e di rimanere connesse tra loro e con il loro lavoro persino durante i periodi di lockdown. L'urgente bisogno è di colmare i divari digitali esistenti ed emergenti unito all'esigenza di tutelare la privacy degli individui e assicurare un corretto utilizzo dei dati ci portano ad auspicare che il commercio elettronico possa in futuro essere oggetto di intese internazionali virtuose in grado di innalzare gli standard. Quanto agli investimenti, questi erano sotto pressione anche prima dello scoppio della pandemia. Tuttavia, in questo contesto di incertezza e di calo dei flussi economici è diventato ancora più cruciale allestire un ambiente che faciliti, promuova e assicuri la loro espansione. Permettetemi di richiamare l'importanza del miglioramento delle condizioni per gli investimenti in primis eliminando le discriminazioni tra soggetti interni ed esteri e garantendo l'accessibilità, la trasparenza, la giustizia e la prevedibilità delle regole del gioco.